Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è il 15 di dicembre. E voi mi direte, sti gazzi. Però è il giorno in cui sulle piattaforme streaming più famose è uscito Tenet, l'ultimo film di Nolan. Che io ho visto con estremo piacere, ma devo preparare comunque un video tutto più articolato, vabbè. Stasera ho cercato un'opera un pochino più leggera, sono entrato su Netflix e in top 10 c'era una roba che subito ha catturato la mia attenzione. Tanto se in top 10 è merda, 9 su 10, no? Infatti, l'ultimo film che ho trovato in top 10 era 365 giorni, quindi potete ben capire. A volte in top 10 ci entrano anche dei bei prodotti, tipo La Regina degli Scacchi o quei filmoni che, vabbè, non sono usciti oggi, sono film di anni fa, cult, tipo Interstellar, The Wolf of Wall Street, quelle normale che ci entrino. Però, quando si trova un film nuovo, soprattutto marchiato a Netflix, l'odore di sterco è lì dietro l'angolo. Vabbè, iniziamo la riproduzione di questo film, che è tratto sorprendentemente da una storia vera. Quindi, attori semi-sconosciuti. Marchio Netflix. Dove si racconta la storia di un'isola che vorrebbe diventare uno stato comandato da un ingegnere un po' coglione a largo delle spiagge di Rimini, cosa potrà mai andare storto? A tutto quanto. Allora, la storia è vera. C'è questo Giorgio Rosa, neo-ingegnere, che una sera, durante i festeggiamenti per la sua laurea, incontra la sua vecchia fidanzata, la sua vecchia fiamma, una bella ragazza, con un leggero, leggero, leggero accento romagnolo. E niente, lei ha bisogno di un passaggio, e lui ha bisogno di un'occasione per... di nuovo, no? E allora le dà un passaggio su quella sua stramba automobile, automobile che lui stesso si è costruito come tesi di laurea, quindi forse, forse, un coglione non lo è. Tu, ignaro spettatore, pensi, poi due minuti dopo capisci che in realtà sia un depensante quando viene fermato dalle forze dell'ordine. Ora, il colloquio con le forze dell'ordine è una delle scene più brutte e recitate peggio che abbia mai visto in tutta la mia vita. Io non sono un segugio dei film brutti, quelli di serie Z, cioè che hanno visto in quattro, eccetera. Però, se noi prendiamo i film un po' conosciuti italiani, diciamo più mainstream, non dico quelli più qualitativamente apprezzabili, quindi parlo di cinepanettoni che per quanto io adori De Sica molto spesso è attorniato da gente che è recitare, in nome di Dio, eh? I film tratti dai libri, i film tratti dai libri di moccia, tutta quella roba lì. Questa scena è veramente qualcosa di angosciante. Fondamentalmente viene fermato da dei carabinieri, poliziotti non ricordo più, che li trovano a dire, giusto giusto due cose, eh? Che la sua auto è senza targa, che è senza libretto, senza assicurazione, lui non c'ha manco la patente. E lui si difende tirando fuori delle scuse che forse a monte avrebbero dovuto far ridere lo spettatore. E c'è lo spettatore guardando e dice, ma allora ha ragione lei? Questo si è costruito un'automobile, però è coglione, è coglione. E se uno avesse ancora dei dubbi, se li toglie tutti quanti quando lui è assunto da una scuderia di corse motociclistiche, durante una gara fa schiantare il pilota, anziché comunicargli una... praticamente lui aveva il compito di comunicare al pilota delle informazioni con una lavagnetta. Però lui si fa i cazzi suoi, guarda un cartellone enorme pubblicitario dove c'era scritto pubblicizzate le piattaforme petrolifere. E allora lui vedendo quelle piattaforme petrolifere dice, cazzo poter costruire la mia piattaforma e costruirci sopra la mia isola, la mia società, fare il mio stato. L'isola delle rose. Lui si chiama Giorgio Rosa. E tanto che lui guarda sto cartellone, non dà correttamente l'informazione al motociclista che cerca di muovere la testa per vedere cosa ci fosse scritto, si cappotta e va poi a menarlo, giustamente. La scena in cui il motociclista cade, vi prego andatevela a vedere, perché sembra fatta avere una gif. È orribile. C'è la CGI messa in questo film e ricorda un po' i primi giochi che uscivano per la Play 3, che all'epoca ci sembrava qualcosa di wow. Però se riguardi adesso, dici, vabbè, sì, ma è finto come la merda. E, ok. Bene, lui costruisce quest'isola insieme ad un suo amico che raccoglie in maniera molto passionale dei fondi e li incula alla cassaforte dell'azienda del padre dando la colpa dei manovali in quanto calabresi. Quindi lui ce l'ha con i calabresi. Non è specificato il perché. È brutto. Vabbè. Fatto sta che costruiscono quest'isola qua, poi si mettono in società con un tedesco che non era più tedesco perché non era stato più riconosciuto la sua cittadinanza, va, 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 lì. Li porta la gente, diventa un polo turistico rinomato, fa cagare. Cioè, sono 20 metri per 20 di cemento con dei cessi di cemento, un casolare orribile di cemento, sembrano le case di Bagdad, un bar e quattro ombrelloni su del cemento al largo del mare Adriatico. C'è la tristezza, perché bellissima la costiera romagnola, divertente, la movida, ma il mare fa cagare. Cioè, non stiamo qua a raccontarcela. Pensate, un'isola di cemento in mezzo a un mare di fango, ma vabbè. Niente, il fatto sta che lui vuole farla diventare una nazione a sé stante, uno stato, la sua moneta, la sua lingua, eccetera. Alcuni avevano fin iniziato l'ONU stesso, le Nazioni Unite, ora non mi ricordo, a vagliare l'ipotesi di riconoscerla come stato a sé, però alla fine verrà smantellata, verranno portate via le persone che c'erano sopra, smantellata, distrutta, grazie a rivederci, finire della storia. Le performance attoriali. Cioè, se questa comunque la trama non è che potevano inventarsi granché, hanno seguito abbastanza pedissequamente i fatti reali. Le performance attoriali hanno un problema. Se gli attori a livello estetico, se voi mettete in mutuo il film, gli attori sono convincenti, ottimi gli abiti, molto calzanti per l'epoca, fino agli anni 60, giusti gli attori dal punto di vista estetico per il personaggio che hanno provato a scrivere. Perché i personaggi non si scrivono nel modo in cui sono scritti in questo film, fanno cagare come sono stati scritti, però a livello estetico l'attore calza molto bene il personaggio e questo devo dargli a neato. Il problema sta nel momento in cui gli attori iniziano a parlare, a dialogare, a interagire col copione e con gli altri attori, in quanto molto spesso hai quella sensazione, quel feeling di finto, sa proprio di finto, sa proprio di televendita della Hemiflex, sa, sembra quasi la cadenza dei bambini quando vanno a recitare, no? Il Natale è arrivato, quella cadenza lì con l'accento romagnolo mista un po' ai barzellettieri che andavano sul palco alla sai l'ultima. A volte sembra che vogliano fare per forza ridere anche se quello che stanno dicendo o comunque il contesto non dovrebbe fare ridere, no? È tutto forzato ogni volta che un attore parla dici cazzo sta proprio si vede che recita. Lungi da me iniziare questo film con le aspettative di vedere una performance attoriale alla DiCaprio in The Wolf of Wall Street o in Revenant per l'amor di Dio no? Però eh non va tanto bene. Colone sonore a parte qualche pezzo un paio di pezzi della tradizione musicale italiana le colonne sonore sembrano probabilmente YouTube soundtrack no copyright la prima che trova download è l'antirat giù senza infame senza orade passano tranquillamente inosservato anche qua non mi aspettavo Hans Zimmer passano completamente inosservato e la fotografia e poi la sceneggiatura il problema del cinema italiano è che abbiamo tanti buoni DOP ma degli sceneggiatori di merda questo film è penso uno degli esempi più calzanti perché la fotografia è bella ora vi metterò delle immagini non potrò metterne tante ma tutto ciò che avete visto finora se vedete il film la fotografia è bella è una bella fotografia ci sono delle soluzioni delle immagini che sarebbero veramente fighe da stampare e da appendere belle la fotografia in questo film è bella è veramente curata abbiamo degli ottimi DOP ma degli sceneggiatori di merda il che vanifica il lavoro del DOP perché le cose devono essere complementari però secondo me forse più salvabile un film con una buona idea e una fotografia nella media non dico una merda corretta ma nella media piuttosto che un film con una fotografia della madonna ma che poi non sia niente quindi ottima fotografia sceneggiatura male la scrittura dei personaggi l'abbiamo detto le colonne sonore le abbiamo dette le perfe ammassatoriali le abbiamo dette quindi per arrivare a una fine bella l'idea di riprendere questo fatto storico della nostra Italia che non tutti conoscono io sinceramente non lo conoscevo prima di vedere questo film qua no? poi mi sono un po' informato bella l'idea di prendere questa cosa qua perché è una cosa effettivamente successa effettivamente accaduta realistica ed è bella riproporla in un film non così non così perché veramente il senso di povero è proprio palpabile cosa vuol dire senso di povero di filmetto cioè proprio filmino così non hai non voleva questo film così come il cinema italiano il cinema italiano allora la gente fa sempre il paragone al cinema americano sono budget e realtà neanche minimamente comparabili e non è che il film italiano tu lo vuoi fare per copiare qualcosa che farebbero in America perché tanto non se tu col budget italiano una produzione italiana vuoi scimmiottare una produzione americana farai una merda perché sono proprio due realtà incomparabili però se anche quando guardi qualcosa di brutto americano hai la sensazione di di è difficile da spiegare questa sensazione di povero che io ho veduto in questo film è perché mentre tu lo guardi dentro di te stai sentendo che ti manca qualcosa ti manca tutto quel qualcosa che in genere tu provi quando guardi un film ti sembra di mi sembrava di vedere una soppopera di vedere cento vetrine eh di vedere proprio quelle cose buttate a caso giusto per richiamare un po' di gente davanti allo schermo peccato perché l'idea di base era convincente però hai quella sensazione di film povero ma non intendo povero dal punto di vista del budget dal punto di vista delle idee dei mezzi ora non so che budget potesse avere povero perché tu sai che con quella bella fotografia con quello spunto che è la storia vera quindi con quella trama già imbastita dalla nostra storia eh potevi fare decisamente di più è quello il senso di povero che tu hai è perché eh quella povertà viene da una mancanza e tu guardi questo film e dici manca drasticamente qualcosa cosa manca delle colonne sonore che rendano il tutto un po' più effetto wow mancano delle performance attoriali convincenti sembra sempre di vedere un dibattito di forum ehm ma forse anche li recitano li sembra a volte sembra veramente che le cause siano reali qui ti rendi proprio conto che stanno recitando è come andare a vedere la compagnia teatrale creata l'altro ieri da tuo cugino che per carità ci mettono impegno eccetera però ti rendi conto che sono proprio alle prime armi qui sembra di vedere attori alle prime armi sembra di vedere il saggio del primo semestre dell'accademia di recitazione di Ciparacci quelli sono sei mesi che ci provano prima di arrivare a Netflix prima di arrivare a fare un film secondo me che non recitano male ma tu hai sempre la sensazione che recitino non ti sembra mai che i dialoghi siano effettivamente dialoghi che potrebbero nascere ed evolversi nel modo che uno vede nella vita reale tu dici nella vita reale due persone non si parlano in questo modo e non parlano così lo senti sa di finto anche quello lì sa di povero dal punto di vista cinematografico non è una questione ricchi e poveri sa di mancanza quindi manca il colonne sonore manca una recitazione adeguata manca una scrittura dei personaggi sono proprio i classici stereotipi dell'italiano delle barzellette e anche lì c'è povertà povertà nelle colonne sonore povertà nella scrittura dei personaggi povertà nella scrittura in generale che ti fa percepire quella sensazione di povero di mancante di mancanza buonanotte